6 giri del circuito di San Paolo per gli atleti della categoria G4 che in questo momento compiono le loro prime pedalate di giornata. Prime fasi di gara piuttosto controllate per gli atleti della categoria G4. Il gruppo procede compatto. Ronco, Springhedi, Rodengo e Feralpi, le maglie in questo momento sulla testa del plotone. È un portacolori della Ronco che al sonno della campana tenta un'accelerazione e il gruppo si allunga subito in fila indiana. È partita la volata finale e sotto lo striscione d'arrivo vince Vanni Michael della Feralpi davanti a Borsanini Nicolas del Rodengo, Telomario della Ronco, Bono Alex del Rodengo e Perani Riccardo della Ronco. Tra le ragazze vince Ruffo Stefanini Giorgia della Ronco davanti a Bortolotti Silvia della Mazzano e a Ricci Greta della Ronco.